Eccoci qua ragazze, buonasera! Eccoci qua, aspettiamo, come si levano queste cose da qua così, perfetto! Vediamo che arriva stasera, ve l'ho detto tante volte, 19 diretta live, 19 diretta, 19 diretta, vediamo che arriva stasera e che mi fa compagnia. E comincia ad arrivare qualcuno, vediamo un po', aspettiamo. Intanto, diciamo subito che siamo in diretta nella nostra pagina Facebook Glitz & Glamour, nella mia pagina Facebook personale Melania Fanpage, ma siamo anche in diretta nella nostra pagina di Instagram. Mi girano gli occhi per chi guarda un po' di qua e un po' di là, ok? Perfetto, aspettiamo, dai che saliamo, come va intanto ragazze, chi c'è con me? Vediamo chi mi saluta stasera, qualcuno sta arrivando, dai! Chi c'è, chi c'è con me? Io qualche nome lo leggo, qualche nome lo leggo, tutto bene ragazze? Ditemi di sì, dai, per favore, ditemi tutto bene. Allora, stasera tante belle cose ragazze, quindi pronte, rimanete qua con me, facciamo salire questo numero, condividete la diretta. Ciao Lory, ciao Gioia, brava Loredana Isai, ciao Gioia, ciao! Chi c'è? Lidia, ciao Lidia, ciao Gioia, buonasera a tutte! Mi raccomando, posizionate il telefono da qualche parte in cucina, visto che è l'ora, penso che preparate la cena, quindi lo posizionate là, cucinate e nel frattempo mi fate un po' di compagnia. Va bene? Ciao Dora, ciao Gioia! Allora ragazze, importante sempre, al solito, condividiamo tutti la diretta, ok? Tutti, mi raccomando, condividete! Dora, condividi! Carmen, condividi! Brava Carmen, non ti dico più niente a te! Bravissima Carmen, condividete tutti questa diretta, ok? Aspettiamo un altro pochino, ricordiamo! Ciao Rosanna, ciao Gioia! È un po' che non ci vediamo, Rosanna, vero? Tutto bene? Come stai? Ciao Anto, ciao a tutti, ciao a tutti! Quanti siete? Dai, bravi, sono contenta! Ciao Francesca, se ne salto qualcuno, io saluto tutti! Ciao, ma un umano oggi mi ha scritto, non vedo l'ora, brava, sei qua con noi, sono contenta! Cosa dobbiamo ricordare in primis? Se qualcuno vuole lo può scrivere anche durante la diretta, quindi ho bisogno della vostra collaborazione. Ricordiamo a tutti il numero WhatsApp, 392 96 31 880. Parte la prima richiesta, ciao ci sono stivali con tacco basso color cuoio, Anna Maria qualcosina, ora ti faccio vedere. Bene, sono contenta, Rosanna, brava ad ora che hai condiviso, ma condividete tutte, mi raccomando ragazze, tutte, ok? Non costa nulla, ho bisogno del vostro aiuto e posso chiedere solo che a voi. Ho visto che molte di voi, ciao Cinzia, bene, grazie, molte di voi hanno anche dato un'occhiata sul mio canale YouTube. Cosa è importante ragazze? Se potete, iscrivetevi al mio canale YouTube, Melania Grizz, aiutatemi anche a far crescere questo canale, ok? Perfetto, ricordiamo pure i punti vendita, così nel frattempo saliamo, preparo anche l'acqua adesso perché già ho sete praticamente. Maria Carmen, sono spettacolo, grazie mille. Allora, che stavo dicendo? I punti vendita ci troviamo a Palermo, Corso Cala da Fimi 250 e Viale Lazio 110A. Ricordo il nome della nostra, grazie Emanuela, questa giacca l'ho comprata proprio in questi giorni, è stupenda. Ricordo il nome di Giussi, ricordatevi tutte di Giussi che lei è contenta quando ci andate e dite Ciao Giussi, tu sei Giussi, Melania parla di te. Quindi andate a trovare anche la nostra amica Giussi. Ciao quanto tempo, io ho problemi con mamma, non mi sono più collegata, ora sporo i verti più spesso. Loredana tesoro, spero che hai risolto i problemi, che è la cosa più importante e spero stasera di farti un po' di compagnia e di farti sorridere perché la cosa più importante ragazzi di queste dirette è sorridere. L'altra sera io, l'ultima diretta che abbiamo fatto, ve lo dico veramente, io mi sono divertita, mi sono divertita tanto. Grazie a voi, veramente. E allora, mi hanno lasciato sola, che devo far vedere così? Ragazzi, mi hanno lasciato sola, a posto. Chi me li passa le scarpe? Ecco qua, è arrivato il nostro ciccio. Ciao Franci. Siamo quasi pronti, ancora siamo pochini, dai ragazze, condividete la diretta, mi raccomando, tutte quante, che poi controlliamo. Ancora nuovi arrivi ragazze, tanti 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 nuovi arrivi. Comincio subito con un modellino nuovo. Il mio visual l'ho già pubblicato nella nostra pagina Facebook, che ha svelato qualche segreto. Mi leva questa cosa a me, che li devo far vedere io per la prima volta, no? Tu, capito? E allora, grazie Carmen, pure io vi voglio bene a tutte. Che vuoi tu? E allora, cominciamo, vi faccio vedere subito dei modellini nuovi. Comincio col primo, tutte pronte, mi raccomando. Iscrivetevi al canale YouTube Melania Glitz, seguitemi, che veramente, ragazzi, vi farò vedere tante di quelle cose belle, che impazzirete. Ok? Quindi iscrivetevi, tutte quante. E soprattutto, se volete, se vi piace la mia diretta, se già mi conoscete negli store, se mi avete acquistato anche da fuori, perché ricordo che noi spediamo ovunque, in tutta Italia, fuori d'Italia, ovunque. E soprattutto facciamo anche delle consegne a domicilio a Palermo immediate, e molte di voi già lo sanno. Quindi, se vi piacciono queste dirette, se vi piacciono i miei gioielli, che sono le mie calzature, ditelo ad un'amica, ok? Consigliatelo ad un'amica, condividete la diretta. Perfetto, mi fanno segno? Ok, va bene. Cominciamo, ragazze. Primo modello, un modello che intanto mi avete richiesto, e io, quando le mie clienti mi chiedono qualcosa, ta, arrivo subito. Un modello che, appunto, dicevo, siete, siete, che volete, da me? Niente, apposta. E allora, guardate un po', guardate questo modellino qua, stile Dottor Martins. Oggi una cliente me l'ha commentato nella nostra pagina Facebook, mi dice, Melania, sono Dottor Martins? Assolutamente no. Modello Dottor Martins, sì. Questa è la nostra meravigliosa azienda, XE, molte di voi la conoscono, l'avete acquistata. Sapete che scarpe meravigliose che sono. Si vede bene? E un bordeaux, guardate che bello. Lo tengo così, ragazze, perché se volete potete fare la foto e poi magari mi contattate al numero WhatsApp per richiedere la misura, insomma, per sapere i colori, tutto quanto, anche se io ve li dico i colori. Grazie, grazie Loredana, grazie mille, vi ringrazio tutte di vero cuore. E allora, questo anfibietto, chiamiamolo così, modello Dottor Martins, disponibile a Bordeaux, giro e ve lo faccio vedere, è stupendo. La Sicilia che non molla, ok? Poi ci vado a dare un'occhiata, Loredana. Il costo di questo meraviglioso anfibietto è di soli 79 euro, è meraviglioso. Inutile dire che già qua è nella mia scarpiera, ok? Che colore ce l'abbiamo questo modellino qua? Bordeaux, un colore che è semplicissimo da abbinare, jeans pure così, come sono vestita io con questa giacca che brilla così, ci andate a mettere un anfibietto Bordeaux, un abitino nero, lungo, particolare, ci mettetelo, sdrammatizzate con questo stivaletto, mojil, jeans, pantaloni, veramente su tutto. Disponibile Bordeaux è pronto! Francesco si distrae, Francesco, per favore. E allora, naturalmente il nostro nero, che non può mai mancare. Ciao Sabrina, ciao Gioia, vienimi a trovare che sono arrivate tante cose carine. È nero, guardate che bello anche è nero, ve lo giro e ve lo faccio vedere. E nel frattempo ricordo anche il numero Whatsapp, 392 9631 880. Quanto costa questo stivaletto? Qualcuno mi dice 79 euro, solo 79 euro, ok? Sono comodissime, meravigliose, veramente. Se vi piace lo ditemelo, non è che vi vergognate, ditemi qualcosa. Forza, ok. Forza a tutti i commercianti in questo periodo particolare, continuate con le dirette. Grazie Marzia, ce la metteremo tutta, 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 tutta. Dobbiamo passare questo periodo, ce la dobbiamo fare anche questa volta, per la seconda volta. Però Marzia, è importante, credetemi ragazze, qua mi calo un pochettino così, e voglio dire questo, ci dovete aiutare. Ci dovete aiutare, condividete, fate crescere la pagina, fateci conoscere, parlate di noi, ma non dico solo di me, di tutti i commercianti che voi conoscete, di cui vi fidate. Parlate, parlate di loro, ragazzi, veramente, aiutateci, aiutate tutti i commercianti, ok? Grazie Sabrina, grazie mille, perfetto, basta, la foto l'avete fatta, ciao Gianpa. Cosa abbiamo abbinato qua, Francesco? Delle borsa abbiamo preparato. E allora, abbiamo provato questa borsa qua di Axel, è una borsa Bordeaux e Cipria, sono bellissimi, sono leggeri. Carmen, assolutamente sì, sono comodissimi, ora lo faccio vedere, non ti preoccupare, ok? Praticamente è Bordeaux e poi se gira è Cipria, vedi? E l'ho abbinata, appunto, scusatemi, a questo stivaletto. Vi ho fatto, guarda nella mia pagina, Marzia Genovese, ok? Anzi, ti dico di più Marzia, perché poi purtroppo mi sfugge. Marzia 392 96 31 8 8 0, ok? Ricordami questa cosa sul mio numero WhatsApp, ok? Che io ci vado a dare subito un'occhiata. Quindi, contattatemi veramente per qualsiasi cosa, mi fa piacere. Ok, Marzia? Perfetto, quindi dicevo, questa borsa è meravigliosa con questo stivaletto, ma abbiamo anche delle sneakers Cipria da abbinare, io come sempre non posso far vedere tutto, ma cercherò di essere, di far vedere quasi tutto. Ok. C'è Francesco? Ok, il prezzo di questa borsa, lo vediamo, il prezzo di questa borsa è di 49,90 euro, solo 49,90 euro, una borsa molto capiente, naturalmente c'è la cerniera, così non perdiamo nulla, ed è disponibile anche a color cuoio e verde, vero? Che bellissima, color cuoio e verde, ok? Perfetto. Nell'alfibietto nero ho abbinato lo zenetto nero, sempre della linea di Axel, i nostri zenetti che vanno sempre a ruba, e devo dire la verità, e soprattutto in questi colori nero, cuoio, stanno già terminando. Molto carino anche questo zenetto, con la cerniera, quindi pratico, praticamente. Il costo di questo zenetto è di 59,90, solo 59,90. Katia, ciao gioia! Ciao Antonella! State guardando, mi fa piacere! Dopodiché, ragazze, un'altra cosa che vi volevo dire, è che sono arrivati i nostri accessori. Ciao Giuseppina! Come per esempio questa meravigliosa collanina, che è stupenda, meravigliosa, e sicuramente vi abbellisce un pochettino una magliettina semplice nera, mettete la collanina a posto, siamo vestiti. Ok? Perfetto. Che facciamo vedere dopo? Questa è una bomba. Vi farò vedere uno stivale, che è arrivato ieri pomeriggio, stupendo anche questo. Vieni qua, dammelo qua. Guardate un po', guardate un po' che bello. Non so se tra di voi c'è qualcuno di quelle clienti che è venuta oggi proprio ad acquistare questo stivale. È uno stivale in pelle. ve lo faccio vedere bene. Lo teniamo così. Ok. Un tacco 10, un tacco grosso. È comodissimo, veramente comodo. Perfetto. Marzia mi ha scritto, sono contenta, così poi ci vado a dare un'occhiata. Ha la cerniera intera e la parte di sopra anche l'assicizzato, quindi calza benissimo. Ciao Mela, ciao Gioia. Anche perché ha un polpaccio un po' più pienotto, va benissimo, ma anche perché ha la gamba un po' più magra, va altrettanto bene. Stupendo questo stivale. Lo vedete quanto è bello e quanto è comodo? Ciao Providenza, grazie mille. Oggi non me li fate i complimenti per i capelli, perché? Perché non sono andata dal parrucchiere. Questi sono quelli miei naturali. Fatemi lo stesso i complimenti, per favore. Mi raccomando. Ciao Stefania. Allora, andiamo al prezzo di questo stivale. Quanto costa questo meraviglioso stivale? Solo 109 euro. Ma la nostra amica Giussi, dov'è? Non c'è stasera. Giussi, Giussi di Griss & Glamour di Viale Lazio, dove sei? Grazie Providenza, sei troppo gentile. Grazie mille. Non vedo Giussi, sarà impegnata, sarà impegnata. Grazie Stefania. Sarà impegnata con qualche stupenda cliente, quindi non può stare qua con noi. Ok? Allora, costo di questo stivale, l'ho detto, no? 109 euro. Solo 109 euro. Perfetto. Una cosa, ragazze, volevo dire e poi vado avanti. Domenica, che ne abbiamo uno, se non sbaglio, in teoria i negozi, dalla mattina fino alle 2, come i centri commerciali un po' tutti, grazie Cinzia, in teoria sono aperti. Grazie Carmen. Ma, io non aprirò, ragazzi. I miei punti vendita saranno chiusi domenica. Però, però, grazie Mela, ciao, grazie a tutte ragazze, però, per chi vuole, solo per chi vuole, tramite appuntamento, dalle 10 alle 13, assolutamente sì, giù, sì, proprio li ho accorciati, dalle 10 alle 13, tramite appuntamento, possiamo aprire il punto vendita di Corso Calata Fimmi. Ok? Quindi solo ed esclusivamente tramite appuntamento. Cosa vuol dire? Che, se voi pensate di scendere da casa, se dite andiamo da Melania, possibilmente trovate chiuso. Ok? Quindi, se invece mi contattate al numero WhatsApp, che lo ricordo sempre, 392 96 31 880, dalle 10 alle 13, io posso essere disponibile per voi, e ricordo sempre, solo nel punto vendita di Corso Calata Fimmi. Ok? Perfetto. Questo l'ho detto, sono brava, e non l'ho dimenticato. Altro stivale. Dai, faccio vedere un altro stivale. Questo è arrivato ora. Questo è arrivato ora, lo so, Franci, lo so, lo so. E allora, vi faccio vedere un altro stivale, in pelle, uguale, lo abbiamo in camoscio, e l'ho fatto vedere in qualche diretta precedente, ma, dopo tante richieste, lo abbiamo, l'ho fatto arrivare, anche nella versione in pelle, ve lo faccio vedere subito, perché è stupendo. Ve lo ricordate, quello in camoscio, che è praticamente uguale? Ciao Melania, sempre belle, sempre belle cose che presenti. grazie Antonella, grazie mille. E allora, vi ricordate lo stivale in camoscio, tutto nero, che è praticamente uguale a questo, ora è arrivato anche questo modello, in pelle. Giuseppina, vieni, Giuseppina, mi devi mandare un WhatsApp, per favore, al 392 96 31 880, e prendiamo un appuntamento. Ora è tutto, e io sarò felicissima di stare con te. Ok? Quindi, questo è un tacco 50, bellissimo, comodissimo, con una punta sfilata, disponibile solo nero, pelle nero, ma anche camoscio nero, e anche qua, aspettate che ne poso uno, abbiamo una cerniera intera, ok? E anche questo, nella parte, il gambele di sopra, è un semi elasticizzato, e soprattutto, anche qui abbiamo, ehm, l'elastico, diciamo, per chi ha un polpaccio, un po' più penotto, quindi ci aiuta a farlo salire bene, ok? Il costo di questo stivale, è di soli 109 euro, solo 109 euro, lo tengo così, ciao Tea, ciao Gioia, ti aspettavo, quando non mi vedo, dico, ma che, dov'è, mi preoccupo, va bene? Quindi 109 euro, questo stivale, sia nella versione in pelle, che nella versione in camoscio, a parte lo stivale, stupendo, che tengo così, proprio per darvi la possibilità, di fare la foto, e chiedere la misura disponibile, a parte questo modello di stivale, uguale, identico, c'è anche il suo tronchetto, guardate un po' quanto è bello, bellissimo, anche questo comodissimo, veramente comodo, sempre col tacco 50, e con il particolare, è il tacco oro, ma ne abbiamo tanti di questa linea, sia anche con la punta, con la punta arrotondata, per chi non ama la punta sfilata, ok? Stupendo anche questo, e il costo è di 99 euro, solo 99 euro, avete condiviso la diretta, ragazze? Avete condiviso? Ditemi qualcosa? Dovete condividere tutta, dai, su, condividete, ok? e allora, cosa ho preparato per questo stivale in pelle, per questo tronchetto, ma in realtà per tutto quello che c'è in negozio, una bella pochettina, guardate che carina, è molto molto carina, con la sua catena in oro, ok? stupenda anche questa, ed è disponibile, sia nella versione nero, io ho preso questa, proprio per abbinarla, agli stivali, ma è disponibile anche a color tuo, stivali senza tacco neri, tutto basso, Thea, se me lo ricordi sempre, su whatsapp, io non stasera, ma domani, ti mando le foto, ok? Il prezzo di questa collana, va bene? Dico, per ordinare, ti devo contattare su whatsapp, Antonella, si, contattami su whatsapp, mi fai la foto, in questo momento, a quello che ti piace, brava Loredana, fai la foto su quello che ti piace, mi contatti su whatsapp, controlliamo se la misura è disponibile, ora io non so di dove sei Antonella, se sei di Palermo, se sei di fuori, dico, ma le mie scarpe arrivano ovunque, ok? E qua ci sono tante persone che lo possono testimoniare, anzi, anzi, tesoro sneakers quando puoi, Carmen, ho preparato due modellini al momento, perché li ho fatti vedere anche nella diretta precedente, ma ce ne sono tanti, tanti tanti modelli, che stavo dicendo? Ah, volevo ringraziare tutte quelle persone, soprattutto, che non mi conosco, perché molte di voi mi conoscono, perché vengono nelle mie store, ci conosciamo da anni, o perché magari è stato consigliato da qualche amica, ma un ringraziamento speciale, particolare, va, ciao Giovanna, a tutti coloro che hanno ordinato, fidandosi, ok? Quindi, che cosa vuol dire fidandosi? Che in realtà non mi conoscono, è stata la prima volta, mi hanno conosciuto qua, nelle dirette, abbiamo parlato un pochettino su whatsapp, e poi praticamente è come se ci conosciamo da una vita, e questa cosa è meravigliosa, io, per me è stupenda, e volevo ringraziare soprattutto loro per la fiducia, perché questo è veramente importante, ok? Perfetto, questa l'ho fatta vedere abbastanza bene, diciamo, il prezzo di questa, 44,90 euro, e nera è cuoio disponibile, e devo ricordare che abbiamo riassortito uno stivale, che in realtà era rimasto l'ultimo paio 36, ma siccome anche questo è stato stravenduto, che è successo, niente a posto, è stato stravenduto, quindi l'abbiamo riordinato, quindi sono state riassortite tutte le misure, ve lo faccio vedere, ed è questo qua, fa parte sempre della linea di XE, una punta sfilata, qua abbiamo un tacco più alto, quindi un tacco 8 praticamente, e invece di avere la particolarità qua dell'oro, è più, come si dice, nero, da sul nero, quanti messaggi aspetta, ciò me la complimenti, avete borse blu capienti, Marzia, ora io chiedo, se c'è qualche borsella, ce n'è una, quella là, ora te li faccio vedere, no, quella è cuoio, da qua non vedo nulla, servono gli occhiali, raga, non ci vedo più, Marzia, contattami su WhatsApp, che ti mando le foto, ok? Grazie provvidenza, grazie mille, grazie mille, quello è importante, e allora, questo modello, è uno stivale appunto, che era terminato, è riarrivato, per chi me l'aveva chiesto, ed era terminato, ed è ancora interessata, mi contatta sempre al numero WhatsApp, 392 96 31 880, il prezzo di questo stivale, ve lo ricordo sempre, 109 euro, ok, perfetto, che facciamo ora? Ce le facciamo vedere quelle, quelle cosette la carina, un'idea regalo, così, magari, qualche pensierino, facciamo felice qualcuno, vogliamo regalare qualcosa, a un'amica stasera o no? Stasera niente amica, niente sorelle, ciao, avete stivaletti bassi con zeppa, Roberta, ti faccio vedere due modellini, se Francesco me li prende, te li faccio vedere con piacere, vorrebbero vedere, se è possibile, però, se tu puoi, due stivaletti, con la zeppetta, ok, mi ha capito, ce li sta prendendo, Roberta, e te li faccio vedere, prego Marzia, figurati, ok, aspettiamo a Francesco che ci prende questi stivaletti, che dicevo, facciamo qualche pensierino, regaliamo un sorriso a qualcuno, regaliamo, regaliamo, dico, ve lo faccio vedere, se vi piace e volete fare appunto questo pensierino, è una bella idea, tutto quello che ho acquistato, tutto preso di qualità, me ne ha preso, grazie Carmen, vedete ho bisogno di queste cose, di queste testimonianze, soprattutto per chi non mi conosce, ok, e soprattutto scrivetevi al canale YouTube, Melania Glitz, aiutatemi, mi raccomando, stasera controllo, fate crescere, fatemi vedere tutte le vostre iscrizioni, mettete il mi piace, così io, quando pubblicherò qualcosa, nella mia pagina YouTube, voi lo vedete subito, ok, allora, guardate che idea regalo carina che c'è qua, togliamo questa, ma che cos'è questa cosa che non si capisce, giriamola di qua che è meglio, che cos'è, buh, grazie Roberta, e allora, un'idea regalo, è carinissima, perché è praticamente una borsetta, chiamiamola così, grazie provvidenza, grazie mille, e ora la apriamo e la guardiamo insieme, è comoda, oh se la regalavano a me, sinceramente, rimango contenta, quindi, apriamo questa borsetta, e troviamo al suo interno, guardate che carino, uno, questo beauty qua, carinissimo, delizioso, questo di qua, per mettere che so, le matite, il rim, queste cose qua, è carinissimo proprio, e poi c'è pure questa linea qua, ok, quindi che è un po' più capiente, il fard, il fondotinta, quello che volete, non so cosa sia, ma mi piace molto, Emanuela, non so che cosa sia, sto morendo, sto morendo, ti spiego, niente, è tipo un kit, no, un kit che ha fatto questa azienda, che è veramente carino, tu per esempio, vai, parti, non lo so se parti, vai da un'amica, non lo so, vai da casa del fidanzato, non lo so, e ti porti questa borsettina qua, con tutte le tue cosette, ci metti lo struccante, i trucchi, quello che vuoi, è carinissima, poi li concentri tutti, in questa borsetta, la puoi portare anche a mano, anche da vedere, non è male, ok, quindi per fare un pensierino, potrebbe essere anche questa, una bella idea, inventiamoci cose nuove ragazze, che dite, vi dico il prezzo, di questo kit qua, ne saranno rimasti 5 pezzi, vero, all'incirca, 4, 4, secondo me sono 5, però, io difficilmente mi sbaglio, vedremo, il costo di questo kit qua, è di 29,90 euro, ok, 29 euro e 90, se dovete fare anche un pensierino, non è male, va bene, carinissimo, perfetto, l'abbiamo fatto vedere, ora, ah, c'era Manuela che mi chiedeva, degli stivaletti con la zeppetta, non ci arrivo, ciccio, se non mi aiuti tu, io sono una donna finita, praticamente, è vero, Giovanna, è una bellissima idea, è carino proprio, secondo me, una donna che lo riceve, dico, non è una cosa da buttare, assolutamente, allora, non mi ricordo come si chiama che mi ha chiesto il stivaletti, ma glieli faccio vedere, questo praticamente è un modellino, eccolo qua, lo avvicino e ve lo faccio vedere, è in camoscio nero, lo facciamo vedere, uno che è meglio, così, la zeppetta non è questa qua che vedi piccolina, in realtà è tutta questa, non so se si vede bene, lo avvicino, così lo vedete bene, e praticamente c'ha questo perfilino qua, ok, che lo rende più particolare, brava Rosanna, bravissima, bravissima, Roberta, brava, Roberta, ti sto facendo vedere i stivaletti, questo modellino qua, praticamente, è con la cerniera, ok, quindi lo infili e via, è comodissimo, te lo assicuro, Sabrina è troppo carina, il kitty, contattami al 392 96 31 8 0, se lo metto da parte, va bene? e allora, dicevo, comodissimo, bello da mettere ovunque anche questo, ma le mie calzature vanno veramente bene ovunque, ed è disponibile solo nero, camoscio nero, ti dico anche il prezzo, gioia che è di 99 euro, solo 99 euro, per me sì, Maria, assolutamente sì, quello che è importante, quando mettete questi tronchietti qua, ragazze, un consiglio che dopo, può piacere, non può piacere, io lo dico sempre, questo stivaletto costa 99 euro, Maria, sì, 99 Rosanna, 99 euro, se mettete un abitino, con questo stivaletto, azzardate con una bella, un bel collant, una bella calza, ok? quindi se tu lo metti, tra l'altro, se lo vedete bene, non so se si vede, ha anche la particolarità qua, quindi ti dà un gioco, un movimento, mettete una bella calza, e con i vestitini, sono veramente deliziosi, e soprattutto, comodi, ci potete andare al lavoro, ci potete uscire, quello che volete, veramente, quindi dicevo, disponibile così, con cerniera, ma un altro modello, molto carino, io purtroppo, non ce l'ho fatta, più a prenderlo, perché l'avevo appena messo, è entrata una cliente, voglio quello, no signora, questo, voglio quello, che misura, la misura era la mia, praticamente, l'avevo appena messo, me lo sono dovuto togliere, io l'ho dato, sono rimasta senza stivaletto, ok? Quindi, è vero, e l'ho tolta, l'ho dato alla signora, con molto piacere, comunque, diciamo, allora, questo è un altro modellino, guardate che bello, fa parte sempre di quella linea, quindi questa zeppetta, la vicino, non è bassissima, non è altissima, parliamo di una zeppa, 8 centimetri, ultra comodo, con questo particolare, qua dietro, si infila a calza, facilissimo da mettere, ragazze, veramente, facilissimo da mettere, vero le calzature, sono belle e comode, le compro da anni, e possiamo fare, grazie a Marzia, grazie mille, quindi, facilissimo da mettere, sempre la versione in camoscio, il prezzo di questo, un po' di più rispetto a quello, è di 109 euro, per questo stivaletto, bella la collana che indossa, quanto costa? me lo puoi controllare, quanto costa? te lo dico subito Maria, un attimo solo e te lo dico, ok? il costo è di 109 euro, sono rimasta, devo dire la verità, pochissime misure, quindi, contattatemi, 392 96 31 880, allora, da una parte, sono contenta che non vedo Giussi, perché sarà impegnatissima, Giussi di Viale Lazio, dove sei stasera? dove è Giussi? è così impegnata stasera? ecco, eccola qua la collana, guarda, questa è la collana che indosso io, se la faccio vedere bene indossata, sono belli Roberta, ma soprattutto comodi, vi ricordo Roberta, che se hai difficoltà a venire nei nostri store, facciamo anche le consegne a domicilio, e siamo velocissimi, consegniamo in tutta Italia, consegniamo fuori d'Italia, facciamo di tutto e di più, per voi, allora, questa è la collana, e il prezzo è di 14 euro, ok? solo 14 euro, ragazze, ma ci sono tante collanina, ok? magari ve ne faccio vedere qualcun'altra, dai, faccio vedere qualche collanina prima, poi andiamo avanti con le scarpe, perché abbiamo ancora qualcosina da vedere, che vi faccio vedere? allora, questa di qua per esempio, bella, guardate che carina questa, anche come idea regalo, con le perle, le palle, c'è tutto, quello lucido con zeppa, lo stivaletto quello lucido con zeppa, è terminato, Roberta lo sai che non me lo ricordo qual è? non me lo ricordo, abbiamo uno stivaletto in pelle lucida, con zeppa, no? uno stivaletto in pelle lucida con zeppa, non l'abbiamo, non me lo ricordo Roberta, grazie Carmen, sempre grazie, io cerco di essere il più veloce possibile, nel rispondervi, ok? a volte mi capita che sono, non sono più in negozio, magari mi chiedono il prezzo, comunque rispondo, e insomma, dico domani mattina, appena arrivo in store, ti controllo tutto, e ti do tutte le info di cui hai bisogno, non è con zeppa, ciao Annalisa, ciao Gioia, come stai? allora, guarda questa collanina, che pure, si l'ho vista in Viale Lazio, ma c'era solo il 39, mi informerò con Giussi, Roberta, magari mi contatti su whatsapp, e poi vediamo qual è, perché non me lo ricordo proprio, ti direi una bugia, non mi piace dire la bugia, allora, questa collanina qua, che è bellissima pure, se riesco a farvi capire, lo stile, guardate che carina, anche questa è una bella idea a regalo, per un'amica, per una sorella, per un amico, ci sono pure gli amici, che mettono questa, questa, prego figura di Roberta, il costo di questa collanina, è di 16 euro, solo 16 euro, ed è deliziosa anche questa, oppure, un'altra collanina bella, che ha questa, questa è pure bella, non mi ricordo se già ve l'ho fatta vedere, ma io ve la faccio rivedere, chi se ne prega, questa è lunga, sempre con le nostre monetine, e le nostre perle, se ricordo bene, è rimasta l'ultima questa collana, ragazze sono terminate, ok, mi alzo così, ve la faccio vedere, questa non c'è, guardate che bellina, mi piace, simpaticissima, anche questa, hanno dei prezzi, velocissimi, il costo è di, 14 euro, anche per questa collanina, va bene, credo che sia l'ultima ragazza, ok, perfetto, facciamo vedere, qualche stivaletto, color cuoio, ho visto che ho delle richieste, di color cuoio, che dita, vai Franci, facciamo vedere, questo modellino qua, il prezzo non c'è scritto, ma io me lo ricordo, benissimo, eccolo qua, allora, un stivaletto, un mezzo stivaletto, guardate che delizioso, con un tacco 9, un fondo gomma, comodissimo, molto giornaliero, da mettere, dico per chi ama i tacchi, ma comunque, ciao Loredana, ciao Morina, un bacetti, bacetti per tutti però, dicevo, questo stivaletto, per chi ama i tacchi, ma comunque, vuole stare molto comodo, lo consiglio, veramente, è disponibile, io ho comprato la collana, nera e oro, che indossavi l'altra volta, stupenda, sono contenta Roberta, quella collana, credo che sia finita, ciao Lori, dicevo, questo stivaletto qua, è disponibile, sia in cuoio, io l'ho preparato solo color cuoio, ma anche nero, ok, quindi due versioni, anche con gli abitini, questo sta benissimo, è un po' spartù, è uno stivaletto che mettete, tutti i giorni, anche per chi, non è abituato, a portare i tacchi, ragazzi, ve lo consiglio, è veramente comodo, soprattutto, è tutto in pelle, guardate un po' che è morbido, molto morbido, ed è comodo, nero e cuoio, il costo di questo stivaletto, è di 119 euro, io lo ricordo, 119 euro, questo stivaletto, nero e cuoio, fate la foto, tac, fatta, perfetto, abbiamo abbinato, questo stivaletto, questa è l'ultima, quindi chi la vuole, manda subito un whatsapp, ultima borsa color cuoio, c'era nera, c'è tutti i colori, ma sono terminate, la nostra borsa morbidosa, vedete, color cuoio, ultima borsa è rimasta, anche se sono le ottime cose, io le faccio vedere, così facciamo contenta qualcuno, ok, bellissima questa borsa, molto capiente, e all'interno, ve la faccio vedere, c'è la sua, un'altra borsa con la cerniera, praticamente, ok, e c'è anche la tracolla lunga, che potete mettere, vero? Sì, vero, dico, magari sto dicendo una fesseria, no, vero, c'è anche la tracolla lunga, vi do il prezzo di questa borsa, che è di 54 ore e 90, fate la foto ragazzi, mi raccomando, fate la fotina e me la mandate, perché è interessato, ok? Opa, fammi respirare, la cena pronta, raga, avete preparato? Respiriamo un poco, piano piano, bovo un goccio d'acqua, stancavo, due minutini, raga, un minutino solo, ok? E continuiamo, stancavo, l'ho presa l'acqua, grazie, la borsa è rimasta solo color cuoio, c'era nera, c'era rossa, sono finite tutte, non mi ricordo se è rimasta cipria, ciao Melania, io ho condiviso, se sempre si mette cipria, grazie Ivana, grazie, sì Maria color cuoio, grazie ragazze, condividete questa diretta, per favore, mi raccomando, ditela alle vostre amiche, fate condividere alle vostre amiche, tutti noi abbiamo bisogno di voi, aiutati che Dio ti aiuta, il detto è reale ragazze, ok? Quindi aiutiamoci, aiutiamoci tutti, anzi, vi dirò di più, chiunque ha bisogno di una mano, di qualche cosa, vuole parlare con me, per qualsiasi cosa, contattatemi, 392 96 31 8 80, contattatemi per qualsiasi cosa, veramente, non solo per le scarpe ragazze, lo faccio con piacere, ok? Rosa Perrone, voglio la borsa, Rosa io la metto da parte, la borsa color cuoio, me la mettete da parte, per favore, ci scrivi Rosa Perrone, una gentilezza Rosa, mi devi mandare un whatsapp, ok? 392 96 31 8 80, mi scrivi sono Rosa, della borsa, dopodiché parliamo e ci organizziamo, non so se sei di Palermo, se te la devo spedire, poi insomma ci conosciamo, ok? Perfetto, che dobbiamo far vedere, un altro stivaletto color cuoio, lo vogliamo vedere? me lo passi questo, faccio vedere un altro stivaletto, allora, questo è un altro stivaletto che ho preparato, color cuoio, anche questo è uno stivaletto comodissimo, molto pratico, giornaliero, anche questo è disponibile sia in cuoio che in nero, non l'ho preparato ora nero qua, da farvi vedere, ma ve lo immaginate, qua abbiamo un tacco 7, anche questo, un fondo gomma, cosa vuol dire questo fondo gomma ragazzi? Questo è importantissimo, soprattutto quando piove, per le piogge, no? è molto importante, perché proprio vi isola dal pavimento, dall'acqua praticamente, ok? È carinissimo da mettere anche con gli abitini, quindi non solo pantaloni, ragazzi, anche un abitino, va benissimo per questo stivaletto, color cuoio è nero, il costo di questo stivaletto è di 109 euro, cuoio è nero, 109 euro, no, facciamogli vedere la sneakers, guardate che qualcuno mi ha chiesto qualche sneakers, vi faccio vedere adesso qualche sneakers, e poi, e poi, e poi, e poi basta raga, ancora, ancora, allora, in qualche diretta precedente l'avevo fatta vedere, però me le chiedete sempre, quindi io sono qua e ve le faccio vedere, ecco qua la prima sneakers, stupenda, è una sneakers di Emanuel V, disponibile in due colori, la tengo così e fate la foto, mi raccomando, quando mi mandate le foto, prendete e fate la foto carina, un intanto io mi spavento, per niente, quando mi arriva la mia faccia con la scarpa accanto, dico mamma mia, e allora, guardate che bella, particolare, gioiello, quindi molto fashion, disponibile e in due colori, io lo faccio vedere, pure l'altro colore, facciamo vedere la borsa, quindi, panna cipria, e, aspetta, panna grigia, guardate che bella, stupenda, questa qua l'ho presa, l'altro giorno, avete guardato un po' tutti, credo, il video, nella mia pagina di YouTube, che ricordo, Melania Glitz, ricordo di iscriversi al canale, di mettere il mi piace, così mi seguite, ho bisogno della vostra collaborazione, Melania Glitz YouTube, ok, vi ho fatto vedere il video, di queste scarpette che io ho preso, insieme a quella connellina, non so se ve la ricordate, a quel completo, che stava veramente deliziosa, ok, stupenda, e, anche queste sneakers, il prezzo lo ricordo, perché non c'è scritto, ma io me lo ricordo, 129 euro, per queste meravigliose sneakers, ok, va bene, Francesco mi dice, ve le faccio vedere al volo, avevamo preparato, queste borse, cipria, da abbinare, nella sneakers cipria, ma in realtà, ragazzi, anche nella sneakers grigia, la mettete, questi sono colori, che vanno bene ovunque, ed è disponibile, grigia, via, scusate, cipria, e, la guardo, e dico grigia, capito, come funziona? E, grigia, ok, perfetto, basta per stasera, ragazze, basta, basta, vi dico il prezzo, però, che è di 59 euro, e 90, basta, la prossima volta, le facciamo vedere, no, la prossima volta, basta, basta, sono stanca, allora, ragazzi, ricordo le ultime cosette, dopodiché ci salutiamo, io, domani, vi aspetto, e store, dalle 9 alle 13, dalle 16 alle 20, mi trovate, nel punto vendita, domani, di Corso Grata Filmi, 250, ricordo, il punto vendita, di Via Lelazio, 110 A, dove troverete, la nostra, bellissima, Giussi, vi ricordo, che domenica, i nostri store, saranno chiusi, ma, solo ed esclusivamente, per appuntamento, quindi, se mi contattate su whatsapp, fissiamo appuntamento, la mattina della domenica, io sono disponibile, dalle 10 alle 13, solo per appuntamento, non scendete da casa, e dite vado a Melania, perché non mi trovate, se mi contattate, fissiamo un appuntamento, con piacere, ok, condividete tutti la diretta, ve l'ho detto all'infinito, spero di vedere, stasera, tante, tante, tante condivisioni, e, fatele condividere alle vostre amiche, ok, forza ragazze, vi mando un bacio, grande grande, e, domani vi aspetto anche, per un caffè store, ok, un bacio, e buona serata ragazze, ciao Sabrina, buona sera, buona cena a tutte ragazze, chiudo, ciao, ciao, ciao,